Però, questo è vero, però non può neanche sparire, perché voglio dire, guarda, guarda, insomma gli va addosso come un tiro. No, rigore, era fuori dall'area. Non lo so, prende la palla, però Gigi va dentro come un treno. Comunque era, casomai, era fallo fuori aere. Comunque c'è una punizione, Ietemai non l'ha munito, per la vendissima volta c'è questa punizione per il Verona. Giorginio guarda a disposizione, palla dentro l'area, c'è Mischia, salta, batte, attenzione Pierano, vince. Goal! Pichelman! 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 Thomas! Pichelman! Thomas Pichelman! Thomas Pichelman! Thomas Pichelman! Andiamo! Giorginio, la palla dentro, la spizza Gomez e poi Pichy, e poi Pichy, e poi Pichy. Quarto gol stagionale di Thomas Pichelman. Domanda, ma è entrato Babbo Natale a spizzare? E si parlava di Pichelman! Mamma mia! E adesso Doninelli. Terzo cambio, Doninelli. Pichelman ragazzi! Thomas Pichelman! Grazie.